Già da un anno, anzi forse quasi due, abbiamo inviato a tutti i comuni e agli enti una lettera per chiedere l'attivazione dei piani di azione positive. Devo dire che i 104 comuni hanno risposto in un numero abbastanza elevato e quindi hanno redatto il piano di azione positive, che non è altro che un piano triennale che l'ente deve redigere proprio per manifestare la volontà di attivare delle politiche di genere in favore delle donne. Quindi tutte le possibilità come la conciliazione vita-lavoro, come la flessibilità, la possibilità di fare carriera, attivare un asilo nido, tutto ciò che può essere avvantaggio di un lavoro sereno all'interno di un'amministrazione per la donna. Sono piani importanti perché se non vengono manifestati, se non vengono poi inviati, quindi fatti ed inviati alla consigliera di parità per un parere che deve essere positivo, la Corte dei Conti può anche non permettere le assunzioni, ma laddove le assunzioni fossero state fatte senza un piano di azione positive attivato e quindi approvato, possono chiedere l'annullamento di queste assunzioni.